A proposito di duplice veste, da un lato la città di Notaresco, dall'altro una visione più regionale, immagino che le faccio doppiamente piacere questa partenza che si avvicina del Giro d'Italia, abbiamo visto Notaresco già rosa praticamente, quasi tutta rosa. Sì, come dicevo prima, noi da diversi mesi che lavoriamo per questo Giro di Tappa Notaresco Termoli, nelle ultime settimane, come ben vedete, abbiamo addobbato tutto il comune, dal centro storico a tutte le frazioni. Per noi è segno di ripartenza, sia come comune, sia come provincia, sia come regione. È un segno di ripartenza perché dopo tanti mesi di tristezza, buio, quello che ci ha visto per quanto riguarda la pandemia, oggi segniamo l'inizio di Tappa con la ripartenza sul nostro territorio per le attività e per tutto il circuito del turismo che ci sarà sul nostro territorio. Sperando che questo sia di fatto l'ultimo Giro che viviamo in questa situazione. Ce lo auguriamo tutti e speriamo che dal prossimo anno sia una tappa libera per tutti, diciamo con più gioia e serenità sia per quanto riguarda i ciclisti e sia per quanto riguarda tutti gli sportivi che guardano e vedono la tappa. Cosa vuol dire per questo comprensorio, il comprensorio del Vomano, essere oramai da tempo al centro del ciclismo italiano e internazionale? Noi sul nostro territorio, come ben sapete, abbiamo un personaggio di spicco che è Marta Bastianelli, che è campionessa italiana e europea e da diversi anni che vive sul nostro territorio, è una frazione che è guardia Vomano. Anche sulla scorta e sulla scia di Marta ci ha dato questo impulso del giro di tappa della gara notaresco Termoli, che ringraziamo.